In una nota del Patto per la Salute e l'Ambiente, Nino Amato, a firma di Fabio Amato, leggiamo Città di Partinico completamente allo sbando. La situazione è diventata insostenibile sotto tutti i punti di vista. Il paese è al collasso. Rifiuti un neghie e attinchite. Il verde pubblico abbandonato. Nessuna delle ville di proprietà del comune ha un aspetto decoroso o può essere fruibile. Non esistono vie, piazze o arterie dove non vi è presente una o più buche. Bisogna fare lo slalom per le vie delle città per fare in modo di non distruggere le autovetture. Molte strade al buio e anche l'arteria di uno dei posti più frequentati, e parliamo dell'ospedale civico che al calar della sera, è diventato pericolosissimo nell'attraversamento della strada statale 113 per recarsi al nosocomio. Noi del patto per la salute e l'ambiente Nino Amato, continua la nota, ci chiediamo ancora il perché il Consiglio Comunale si è ancora in carica, visto che è inesistente e inconsistente. Gli stessi erano bravi ad opporsi all'ex amministrazione comunale, ma ad oggi non sono stati capaci di puntare il dito contro il commissario straordinario che non sarebbe stato nelle condizioni di arginare l'emergenza della città ed è completamente assente. L'ipocrisia e la pavidità di questo Consiglio ci fa pensare che sarebbe meglio i risinna a casa tutti uniti e compatti e non gravare con ulteriori spese sulle casse comunali e soprattutto sulle tasche dei cittadini. L'unica notizia positiva, continua la nota, appresa da qualche giorno, è l'approvazione da parte della Regione Sicilia della variante alla delocalizzazione della distilleria Bertolino. Cresce il fermento per la campagna elettorale. Si alzano gli scudi da parte delle coalizioni e dei candidati a primo cittadino della città di Partinico. Da decenni ricordiamo anche la famosa fiaccolata dei 10.000. Tutti eravamo uniti e gridavamo lo spostamento in altra area dell'industria insalubre di prima classe. Oggi soltanto il perché tutto è stato voluto e deliberato dall'ex sindaco di Partinico si cambia opinione. Non preoccupatevi, siamo a Partinico. Accade anche questo. I futuri candidati, continua Fabio Amato, si schiereranno anche contro la delocalizzazione. Faranno la loro campagna elettorale per vincere le elezioni anche e soprattutto non avendo il rispetto della salute del popolo partinicese. Noi del patto della salute e l'ambiente ribadiamo che la Bertolino SPA non può stare più lì. Deve spostarsi per il bene del nostro ambiente in contrada Sant'Anna. Affirma di Fabio Amato del patto per la salute e l'ambiente Nino Amato.